Oggi 5 maggio 2013 la Juventus risale sul tetto del calcio, infatti vince il suo ventinovesimo scudetto, ops, come sull'apsus, forse dovremmo dire 31, questo non si sa, per i tifosi sicuramente sono 31 gli scudetti, in campo si sono visti scudetti con il numero 31 come vedete su questo foto ma anche in campo, è stata una partita un po' particolare, decisa con un calcio di ricore che ai più è sembrato veramente fuori luogo, assolutamente la Juventus non aveva bisogno di questo calcio di ricore per potersi guadagnare lo scudetto, ormai qua quasi deciso, insomma correva soltanto un punto alla Juventus per aggiudicarsi questo scudetto, però questa giornata è stata in qualche maniera sporcata da questa decisione arbitrale che sicuramente non ha trovato il favore di nessuno, ma soprattutto gli juventini stessi che hanno visto in questa estrema punizione un atto sbagliato, quindi la Juventus che vince per 1-0 sul Palermo mettendone fortissimi guai il Palermo, però si è visto piovere dal cielo questo calcio di ricore che è assolutamente non meritato, regalato, insomma adesso sicuramente scoppieranno le polemiche, comunque ciò non toglie che la Juventus ha fatto una corsa straordinaria, ha fatto un campionato bellissimo e ha meritato sicuramente questo scudetto. Bravo Juventus!